Morto il Papa, Pacelli diventa Camerlengo. È il Camerlengo a sovrintendere alla preparazione del conclave. Pomeriggio, primo marzo, mercoledì. Suona una piccola campanella. I cardinali entrano nel Sacellum Sixtinum. Sono le 11 del 2 marzo. In questo stesso giorno, Pacelli compie 63 anni. I cardinali sono 63, 35 sono italiani. Per eleggere il nuovo pontefice servono 42 voti. Al primo scrutinio ottiene 36 suffragi. Al secondo scrutinio, Pacelli guadagna 5 voti. Sembra fatta. Riprendono le votazioni. È un'elezione trionfale. È stato uno dei concladi più brevi nella storia della chiesa. Sarà Pio XII. Alla domanda di Rito risponde... Accipio in crucem. Accetto come una croce. Una impressionante, profetica premonizione. Alle 17 e 27, dal Comignolo esce Fumo Bianco. Dopo mezz'ora, il cardinale Caccia Dominioni annuncia... Abbiamo fatto...